Mercoledì 26 aprile ci troviamo in via Montenevoso, zona tombaccia di Pesaro, dove questa mattina si è consumata una presunta aggressione ai danni di una donna di 55 anni. Donna che è stata trovata nell'altro dell'abitazione che vedete alle mie spalle, è stata trovata con una vistosa ferita alla testa e un mattone vicino al corpo trovato in stato di semicoscienza. Il tutto è avvenuto attorno all'8.15-8.30, orario in cui alcuni vicini di casa hanno notato questa donna ferita. Un vicino di casa in particolare ci ha ricostruito quegli attimi concitati di inizio mattina. Ho visto poche parole la mia vicina di casa che abita qua, che era fuori, io mi sono baciato la finestra, ho visto che c'erano tre persone qua davanti e si vedevano appunto i piedi di questa signora che uscivano dall'ingresso. Dopodiché io sono sceso con mia figlia, che sta facendo la laurea in infermieristica e ha fatto tre mesi e mezzo di 118, quindi col 118 è arrivato, ho dato anche a lei una mano, in poche parole, con le prime cure. Dopodiché è arrivata una seconda ambulanza con un dottore, hanno diagnosticato da quello che ho sentito un trauma cranico alla signora ed è arrivata anche Icro, l'ambulanza, che è atterrata qua dietro sulla statale. LC sarebbero le iniziali di questa donna, 55enne peserese, residente in via Postomo, che a quanto pare lavorava come colf in questa abitazione, nella quale non erano presenti i residenti questa mattina. Sul posto la polizia per le indagini, assieme anche alla polizia scientifica. Ricordiamo tra l'altro che tutto si è consumato a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri di via Salvo d'Acquisto, forze dell'ordine che hanno anche requisito le immagini di videosorveglianza presenti nella zona per valutare appunto gli estremi di questa presunta aggressione. Presunta aggressione che però col passare delle ore si è trasformata in qualcosa di ben diverso. Il supplemento di indagini ha infatti appurato che la donna fosse sofferente di problemi psichici e a quanto pare potrebbe essersi colpita col mattone da sola in un delirante gesto autolesionistico alle porte della casa dove prestava servizio. Al momento dunque non ci sarebbe nessuna caccia all'uomo, ma le indagini continuano con il supporto chiarificatore delle immagini di videosorveglianza. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale Torrette di Ancona, dove non risulterebbe in pericolo di vita.